Fa discutere ciò che accade ormai da tempo nella zona universitaria di Quattromiglia, schiamazzi ed urla durante le ore notturne. I residenti si dicono esasperati, non riescono più a reggere la presenza così massiccia di giovani, per lo più studenti, che creano caos intorno a una piazza che ormai non è più tranquilla. Tanti cittadini negli anni scorsi hanno addirittura pensato di vendere casa e trasferirsi da tutt'altra parte della città. I fine settimana dunque sono diventati un incubo, anche il solo passeggiare in piazza. Ogni mattina a terra rimangono bottiglie ovunque e nelle ultime ore anche il coperchio di un tombino aperto è spostato. C'è grande preoccupazione non solo da parte dei residenti, ma anche i giovani titolari dei locali in piazza che hanno pensato di avviare un discorso di movida sostenibile, firmando un accordo con la Croce Rossa italiana. Ogni mercoledì sera, per tutto il mese di ottobre, sarà presente un'ambulanza che rimarrà in piazza dalle 23 fino a notte fonda.